Quello che vedete è grasso di maiale. Ovviamente ancora non è venuta galla, perché c'è l'acqua e c'è un po' di tutto. Domani c'è una parte gelatinosa che non è proprio grasso. Siccome il grasso è più leggero, domani troveremo un po' come la neve, nella parte alta, il grasso molto chiaro. Adesso vedete che è un po' torbido. Domani mattina faremo vedere quando sarà tutto pronto. Che il grasso andrà nella parte alta, lo possiamo raschiare e poi la parte bassa verrà buttata. Volendo si può utilizzare anche per accendere il fuoco. Ok, abbiamo fatto questo lavoro oggi perché ci servirà per fare alcune conserve sotto strutto originale. Chiaramente perché quello che si trova nei negozi va bene per cucinare ma non è adatto per poter mantenere i prodotti. In fondo c'è una scadenza di 3-4 mesi. Invece lo strutto potrebbe durare anche anni. L'importante è farlo in un certo modo con le giuste parti del maiale, a dire il grasso che il macellario ti deve indicare quale fare. Ecco perché se mettete altre cose non va bene. E' anche difficile reperirlo nei negozi. E' anche difficile reperirlo nelle macellerie. Quindi è un qualcosa che difficilmente trovate in giro. Ecco, voglio precisare che è una bella rogna poterlo produrre. Ecco. Ecco. Ecco.